Nel nostro spazio meteo continua a peggiorare il tempo sul medio adriatico, sulle Marche, sull'Abruzzo, così come sul Molise, dove sono in atto delle nevicate, che in realtà interessano anche parte dell'Umbria, nevicate che continueranno anche nelle prossime ore su tutto questo settore e raggiungeranno anche quote molto basse, quindi al di sopra dei 100-200 metri. Andrà meglio in aria tirrenica, protetta dalla catena penninica e quindi qui ci saranno ampi spazi di sereno. Ancora piogge tra Calabria Meridionale e Sicilia Orientale, decisamente migliora la situazione al nord con ampi spazi di sereno, il tutto associato a una forte ventilazione nord-orientale che determina dei mari molto mossi o addirittura agitati e anche una decisa diminuzione delle temperature. Per domani ci aspettiamo un ulteriore peggioramento del tempo su tutta l'area adriatica, ci saranno piogge, nevicate, anche se la quota neve dal pomeriggio tenderà a salire e la nuvolosità si estenderà anche al nord con nevicate sulle aree alpine, nubi in aumento anche sul tirreno e sulla Sicilia arriveranno delle piogge anche di forte intensità. Chiudiamo con la giornata di dopodomani che vedrà il maltempo estendersi a gran parte della penisola. Avremo piogge diffuse al centro, al sud, nevicate sul settore appenninico, nubi che aumenteranno anche al nord e ci saranno nevicate sparse su tutto l'arco alpino. Bene, per il momento è tutto, vi saluto, a più tardi. Il meteo è stato presentato da Biscotti Fantasie del mattino di Vella Grazie a tutti.